La notizia sulle anomalie radiometriche rilevate su un camion che trasportava rifiuti da smaltire nell'impianto ex Fenice a San Nicola di Melfi e il conseguente blocco all'ingresso della struttura è al centro di un'interrogazione del capogruppo di Laboratorio Basilicata, Fratelli d'Italia, Gianni Rosa. L'esponente politico intende conoscere le circostanze precise della questione e i provvedimenti adottati dall'Aggiunta regionale. Rosa fa rilevare che i tecnici dell'ARPAB presenti all'interno dell'impianto di termovalorizzazione per controlli sulle acque sotterranee avrebbero già effettuato analisi sul carico trasportato dal mezzo, riferendo che la situazione è sotto controllo. Le ultime vicende che hanno visto protagonista un ARPAB inadempiente, assolutamente non idonea allo svolgimento, anche delle attività di monitoraggio obbligatorie, che osa il consigliere, ci permettono di dubitare del tutto apposto dichiarato dall'Agenzia e riteniamo doveroso ottenere risposte più precise e rassicuranti da parte del Governo regionale.